Ciao, in questo video ti parlo di un altro autore importante che ha fatto la storia della letteratura e che è stato studiato da tutti. Forse i giovani lo studiano di meno, ma le persone che hanno studiato negli anni 50, 60, 70 conoscono tantissime delle sue poesie. Parlo di Giovanni Pascoli, che è stato forse il più importante degli esponenti del simbolismo italiano, forse non il più importante, ma comunque sicuramente uno dei più rappresentativi. Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di Romagna nel 1855. Lui è figlio di un fattore che gestisce la tenuta grandissima dei principi Torlonia e la famiglia è molto ricca, dieci figli, un sacco di campagna, il padre gestisce, lavora e i figli che possono studiano. Giovanni viene mandato prestissimo in collegio ed ha un'infanzia felice tra studio e campagna che lui adora tantissimo. Poi nel 1867, il 10 agosto, succede una tragedia. Sparano al papà. Il papà muore mentre sta ritornando da una fiera, dalla fiera di San Lorenzo. Nessuno sa chi è stato. La famiglia però pensa di aver capito chi è il mandante se non il colpevole di questo omicidio. Ritengono che sia il fattore che ha preso poi il posto del padre. Insomma, da quel momento iniziano le sventure per Giovanni e la sua famiglia. Anche perché l'anno dopo muore la madre e poi uno alla volta una serie di fratelli. Sono disperati. Lui continua a studiare comunque, continua a studiare. Poi ottiene una borsa di studio per fare l'università. È molto capace, molto bravo e quindi si impegna. Però in quel periodo si dedica anche alla politica e a un certo punto partecipa a una manifestazione, aderisce ai movimenti anarchici e socialisti. A una manifestazione viene arrestato. Viene arrestato e si fa più di tre mesi in prigione. Perde ovviamente la borsa di studio. Ma in quei tre mesi decide che lui non metterà più piede in nessuna attività politica. Manterrà però uno stile, un'idea, un'ideologia socialista e soprattutto ritiene che la patria degli italiani debba essere l'Italia. Il nido degli italiani debba essere l'Italia. Sono tre i temi principali che sviluppa. Uno è quello del nido, quel nido che gli è stato distrutto in gioventù. Un altro è il tema della natura che lui ama tantissimo e un altro è il tema della morte che l'ha perseguitato. Questi tre temi si trovano praticamente in tutte le poesie. Infatti ai miei studenti dico ricordatevi queste tre cose e se vi capita una poesia di Pascoli usatele e sicuramente riuscirete a sbarcare quella prova. In sostanza quando si laurea comincia a lavorare bene sogna di tornare in campagna anche perché ha due sorelle da sposare con cui vuole accasarsi. Chissà su questa cosa ci sono molte perplessità, ci sono molte opinioni. Sappiamo che per un periodo prende in affitto una cascina a Castelvecchio e poi riuscirà a comprarla. Nei primi anni sta lì con le due sorelle poi una delle due si sposa e rimane con Maria. A questo proposito ci sono due versioni che raccontano la storia di Pascoli. La prima, quella ufficiale, è che lui non ha mai avuto donne, non ha mai voluto donne perché ha voluto ricostruire quel nido che gli era stato distrutto in gioventù e quindi ha cercato di costruirlo con le sorelle tanto che quando Maria, scusate, quando Ada ha deciso di sposarsi lui è andato in crisi. Infatti non abbiamo notizie certe e forti di relazioni amorose. Un'altra versione però dice che la sorella ha fatto di tutto per impedire a Giovanni di trovarsi una compagna, che Giovanni aveva avuto delle storie sempre boicottate da Maria e che quando lui è morto lei ha costruito quest'immagine di un uomo solitario. Chissà qual è la verità, io non la so, però mi piace pensare che ci sono due opinioni e due versioni diverse e probabilmente tra le due ci sarà qualcosa di vero. Lui continua a scrivere, diventa un docente importantissimo, prende la cattedra del Carducci che era stato prima suo docente, aderisce a... quando l'Italia nel 1911 decide, il governo italiano decide di partecipare, di conquistare la Libia, una scelta del governo Gioliti, lui sostiene questa questa iniziativa e sembra strano che lui abbia sostenuto un'iniziativa nazionalista quando non era nelle sue corde. Però quello che è evidente è che lui soffriva tantissimo nel vedere quanti italiani erano costretti ad abbandonare l'Italia, perché tra fine ottocento inizia novecento, in quella quarantina d'anni se ne sono andati dall'Italia più di 20 milioni di italiani e tutte le famiglie soffrivano la partenza di qualcuno, gente di cui non sapevano più niente. Scrive anche diverse poesie in cui racconta queste storie. Ecco, per lui l'avventura della Libia è un'opportunità per gli italiani, non andrà così, l'avventura in Libia non sarà un grande successo, ma questo non toglie che Pascoli ci abbia creduto. Pascoli muore alla vigilia della prima guerra mondiale e ci lascia una raccolta di poesie straordinarie di cui ti racconterò. Ciao!